Amore, calore, sorrisi e bracci, nutrimento indispensabile per ogni bambino, armi invincibili contro ogni difficoltà, ogni ostacolo nel percorso di vita, corazze fondamentali che lo aiutano a diventare un adulto, forte, rispettoso e responsabile, un futuro cittadino del mondo. Quelli che però dovrebbero essere diritti inalienabili per ciascuna creatura risultano negati e sconosciuti ancora milioni di bambini, quelli dimenticati negli orfanotrofi o in quelle strutture di accoglienza che li ospitano anche per molto tempo. Un diritto, una necessità, un bisogno a parlare di loro e della possibilità di colmare quel vuoto con un gesto semplice e pur pregno di amore, quale è quello dell'adozione. Una pratica quasi sconosciuta e più, che per questo necessita di una particolare attenzione, specie da parte di chi è deputato a informare attraverso messaggi che invognino a spalancare le braccia, ad accogliere nuove esistenze, arricchendole loro e la propria vita. A cura dell'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Biscegli e presso la Biblioteca dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose a Trani, l'incontro formativo sul tema giornalismo e adozione tra necessità e diritto. Qui sono intervenuti Giuseppe Di Miccoli, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, e l'avvocato Antonio Gorgoglione, coordinatore regionale di Amici dei Bambini per la Puglia. Testimonianze le loro che parlano di una speranza illuminante e gratificante per l'anima e per il cuore, donare e ricevere amore incondizionato. Giornalismo, informazione e adozione è una bella formula quella affrontata appunto con l'ordine dei giornalisti, una bella riflessione per comprendere come l'informazione, quella giusta, possa essere utile e possa essere veramente un servizio per l'adozione. Nella nostra zona, quindi sia a livello di provincia BAT ma anche parlando della regione Puglia, sicuramente abbiamo una testimonianza diversa, cioè come il giornalismo riguardante sia la carta stampata sia le tv abbia invece dato un grande contributo proprio all'adozione, proprio alla diffusione della cultura dell'accoglienza. La nostra zona, quella appunto della BAT in particolare, ma possiamo fare riferimento un po' anche a tutta la Puglia, ha avuto una grossa impennata, circa insomma coppie che si sono affacciate e avvicinate all'adozione e questo sicuramente grazie alla buona informazione e all'ottimo contributo che i media in generale hanno potuto dare. Un atto, quello dell'adozione, è rivolto non solo a chi è stata preclusa, la possibilità di avere figli ma anche a chi pur avendo avuto il dono della genitorialità ha la voglia di rispecchiarsi in occhioni lucidi e pieni di speranza, prendendo per mano quella creatura che chiede di essere accolta in una vera famiglia.